voi pensate cerchio ifior l'uno e i molti attraverso gianfranco e tullia solaris 2006 domanda l'io comunque ha delle intenzioni segue delle spinte quanto è importante non assecondare l'io perché comunque se l'io non ha la possibilità di agire non vorrei che si formassero non so dei blocchi dei fantasmi delle cristallizzazioni non so come si possono definire oppure è tutto frutto della fantasia scifo qua c'è un altro problema che sottintende una cattiva comprensione del concetto di io voi pensate che l'io sia il demonio niente di più sbagliato l'io non è né buono né cattivo l'io semplicemente esiste come risultante delle varie forze che arrivano all'individuo questo non significa che qualsiasi cosa l'io vi induca a fare sia sbagliata questo forse non riuscite a capire voi partite dal preconcetto che comunque sia quello che l'io fa è demoniaco e va combattuto non è così ci sono due aspetti da considerare in questa situazione intanto molte cose costruite dall'uomo nel corso della sua storia molte delle cose meravigliose e più belle più piene d'amore e via dicendo sono state costruite sotto la spinta dell'io secondariamente dovete considerare che quello che è importante da riconoscersi è quella che è la vostra motivazione è la motivazione dell'io non l'azione perché l'azione in se stessa può avere degli effetti positivi può essere giusta può essere utile per altre persone può anche aiutarle ciò non toglie che per quanto la vostra azione possa aiutare un'altra persona se fatta per motivi egoistici che so io per essere in qualche modo considerato importante la vostra azione ha aiutato l'altro ma voi dovete vedere qualche cosa perché l'azione che avete compiuto in quella maniera comunque era sbagliata ma non sbagliata per l'altro che riceve l'effetto della vostra azione è sbagliata per la vostra coscienza per voi stessi perché c'era qualcosa che dovevate comprendere per quanto riguarda poi l'ipotesi che qualcuno di voi ha avanzato ovvero che il fatto di bloccare l'io vi possa portare a dei problemi all'interno dell'individuo nel corpo fisico o negli altri corpi ci tengo a sottolineare che i vostri corpi sono pieni di problemi tutti i giorni in continuazione per quello che compite sia che seguiate l'io sia che non lo seguiate e i vostri problemi nascono dal fatto che le vostre comprensioni non sono ancora abbastanza ampie e che quando arrivano alla coscienza di voi incarnati il vostro io li usa per ottenere magari ciò che più desidera ottenere entrando in contrasto con queste vibrazioni ed è questo contrasto quello che provoca i problemi non il fatto di bloccare l'io